Finalmente torniamo a riparlare della cosa che a me interessa di più e anche a voi se non stareste qui il cinema d'artimarsiali bello e brutto ma inauguriamo un altro, anzi è già stata inaugurata, un altro capitolo dei film brutti, film dei kung fu belli ma brutti, brutti ma belli parliamo di Bruce Lee's Ways of Kung Fu Le Via del Kung Fu di Bruce Lee o anche Dragon Lee's Ways of Kung Fu che era il titolo per il DVD britannico o anche Bravado of a Lady Fight o anche che è il titolo originale ufficiale di 18 Amazons, le 18 Amazoni un film che in teoria sarebbe Vuxia fantasy chiaramente è uscito lì il 4 novembre del 79, girato in Corea del Sud in lingua sia mandarina che coreana e sto film io ve lo segnalo non perché mi stia a venire la botta da matto di rivalutare Dragon Lee perché so già due video di seguito che faccio su di lui ossia Via Klaff Chiasinski la come si chiama realmente ma perché è un film dove lui le prende di continuo e il che già ce lo rende simpatico e le prende di continuo da donne quindi quando tu vedi fanciulle su fanciulle che lo sdraiano, che sdraiano il muscolone come fai a non simpatizzare per un film così dove la trama è molto confusa per quel poco che se ne capisce anche perché lo trovate in lingua originale inglese in lingua doppiata in inglese perché è l'originale coreano su Wutan Collection c'è lui che è il solito vendicatore che va tenta di penetrare su un'isola dove c'è una sorta di antenato del Mr. Hunter the Dragon perché siamo in un medioevo imprecisato o forse in una preistoria fantasy tipo Conan lui c'ha da vendicare a qualcuno che è stato ucciso da chi sta su quell'isola l'isola è dominato da un signorotto che al suo servizio ha 18 amazzoni suddivise in squadre ciascuna con abbigliamento diverso, armi diverse chi lancia dardi chi fa altre cose e lui come entra le piglia subito ma Paolo lo sdraiano alla grande poi incontra un altro gruppo lo risdraiano tutte ragazze chiaramente Daekwondo viene frito viene raccolto dal solito eremita che lo aiuta, lo estruisce eccetera eccetera ma lui è raramente risolutivo è quasi sempre passivo quasi sempre guarda quasi sempre i protagonisti sono altri il che è un bene vista la pochezza di attori di Dragon Lee e quindi diventa risolutivo in pochi passaggi soprattutto nel finale è un film che si distingue oltre che per qualche decente scena di combattimento qualche qui siamo più nel campo del fantasy quindi ci sono più armi armi fantasiose combattimenti in verità ce ne stanno pochi siamo più nel soprannaturale però si distingue per un art deco un po' alla sospiria cioè con scenografie dai colori abbacinanti surrealisti non so il rosso sparato il rosso fuoco il verde esmeraldo le grotte perché questi vivono su un'isola di scoglie quindi stanno dentro una grotta a volte sono fintissime ma coloratissime altre volte so vere grotte destalattiti piene di concrezioni spettacolari un po' come la grotta di Castellaneta mi pare che si chiami no anzi ho controllato ci sono pure andato le grotte di Castellana che comunque è sempre in Puglia Castellaneta è dove è nato il nostro il primo grande tipo del cinema Rodolfo Valentino il film è diretto da questo Kim Jong-Yong o anche Philip Chan leggendo su Hong Kong Movie Database ha fatto 17 film un po' tutti così un po' tutti così che non vuol dire che siano brutti sono brutti ma divertenti era anche assistente regista di John Woo nell'altrettanto brutto Hand of Death con Jackie Chan dello stesso John Woo e James Tien il capo dell'isola il mister Han medievale è il solito Kim Ki-Joo che interpretava Testa di Ferro in Cinque Dita di Violenza e generalmente appariva in tutti i film di Kung Fu coreani come caratterista nel ruolo di cattivo nel ruolo del misterioso Vagabondo che in realtà è un formidabile lottatore che è dalla parte del nostro c'è l'altro clone di Bruce Lee ossia Chang Yi Tao scomparso nel 2014 che a volte nei titoli dei suoi film clonati appariva come Bruce Lai Bruce Lee o Dragon Lee c'è poi l'ottimo Elton Chong del quale un giorno parleremo perché era un ottimo stuntman e Taewon Dog a coreano che ha fatto diversi film anche da protagonista che noi però non abbiamo visto praticamente perché appartengono appunto agli anni 80 quando qui il genere non arrivava praticamente più dietro alla produzione ci stanno i soliti Godfrey O e Joseph Lai colpevoli dei tante ninjate agli anni 80 le coreografie sono di Richard Nam che non si sa chi è insomma questo di 18 Amazons è un film di Dragon Lee che dimostra il potere delle donne sull'uomo dove lui è costantemente orizzontale mentre le donne stanno in verticale una bizzarria un'eccentricità un film spazzatura ma con momenti momenti divertenti e ripeto scenografie abbastanza colorate un leggero impegno in più per quanto riguarda i costumi anche se siamo comunque sempre dalle parti della produzione a basso costo dal taglio burattinesco molto divertente la citazione dal conte di Monte Cristo quando il nostro scappa da una prigione con l'aiuto di un prigioniero che sta là dentro in quelle grotte chissà da quanto tempo una sorta di abbate faria cinese ma che i cinesi i coreani anzi conoscano e citino il conte di Monte Cristo non ci sorprende già che si tratta del più bel romanzo mai scritto sul tema della vendetta